Un raggio di colori questa mattina ha brillato sui cieli del Cilento, un arcobaleno dai colori bellissimi, simbolo per eccellenza della speranza. Nella Bibbia si legge che era stato proprio un arcobaleno a dare l'annuncio della fine del diluvio universale. E' sempre l'arcobaleno con i suoi sette colori meravigliosi ed ha sempre un segno positivo di pace, di voglia, di un sorriso e della certezza che dopo la tempesta arriva sempre il sole. Questo momento difficile finirà. L'arcobaleno arriva proprio oggi, 31 dicembre, come a significare che questo nuovo anno sarà un anno migliore. L'arcobaleno è stato ed è il simbolo della lotta al coronavirus, il simbolo della speranza, perché vuol significare con la sua luce, i suoi colori e la sua maestosità che tutto andrà bene.